Un anno fa, nel mese di luglio, aveva pagato 120.000 euro per la fornitura di gas nella sua azienda conserviera. 12 mesi dopo, Francesco Francesi, amministratore della Fiammante di Buccino, si è visto recapitare una bolletta di oltre 970.000 euro, un importo quasi dieci volte più alto, che lo ha spinto a lanciare un grido d'allarme alla politica. Il grido d'allarme è rivolto un po' alla politica europea per chi faccia qualcosa a fronte di questi aumenti, ma al di là della questione mia aziendale, c'è un problema sociale, bisogna risolvere in qualche modo. Non so come, perché non faccio il politico, e l'unico problema è che comunque aumentano i prezzi ai consumatori. Purtroppo questa è una scelta inevitabile, avremo uno scassare che sarà circa l'80% più alto rispetto all'anno scorso. Oltre a provocare rincari per i consumatori, l'aumento folle dei costi potrebbe mettere a rischio anche migliaia di posti di lavoro nelle aziende italiane. Ma noi cerchiamo di resistere, onestamente, non ci penso e non ci voglio nemmeno pensare. Abbiamo anche dei progetti di sviluppo futuro, non voglio abbandonarti, bisogna guardare sempre in avanti. Sarà l'ultima delle scelte questa. Però resistiamo, andiamo avanti, dobbiamo recuperare dal mercato, perché noi dobbiamo essere a ritardo di lavorare in 45 paesi esteri, che ci sono anche alcuni paesi che possono permettersi anche un'inflazione del 100%. Cerchiamo un po' di raccimolare tutto intorno per mantenere tutto in linea. Grazie. Grazie.